Santa Rita, la Santa degli impossibili, la Santa dei Piacentini da sempre. Nella chiesa sullo Stradone Farnese le celebrazioni sono cominciate all'alba. I due giovani preti brasiliani della congregazione Figli di Sant'Anna hanno guidato i riti della liturgia e anche quelli della tradizione. Anche quanti non masticano troppi Padre Nostro hanno acquistato una rosa, chiesto una benedizione, consegnato una moneta a fin di bene. Penso che il messaggio importante di questa festa è proprio quello di un richiamo alla santità, perché contemplare la vita dei santi consiste proprio in questo richiamo di ogni battesato alla santità, così come ha fatto Santa Rita, che attraverso della carità, attraverso dell'identificazione con Gesù crocifisso, lei ha capito che la sua strada era questa, di camminare verso la santità. Quindi il Signore ci chiama ogni giorno della nostra vita, mette nelle nostre mani sempre una nuova possibilità di raggiungere questo obiettivo, questa meta, che è questa di essere santi. Automobilisti, una volta tanto pazienti, hanno devotamente fatto il segno di croce sotto il tiro abbondante di acqua santa e della pioggia. Hanno appeso una bandierina con la Santa Patrona e che la Santa ci ascolti, renda prudenti sulla strada e un tantino più rispettosi delle regole.